In Calabria la qualità della vita è scarso ovunque se si guarda al rapporto messo a punto da Italia Oggi su elaborazioni dell'Istat relativo ai dati del 2015. Le cinque province calabresi restano agli ultimi posti e solo Cosenza riesce a guadagnare qualche posizione. L'ultima nella classifica nazionale è Crotone che precipita alla posizione 110 seppur nonostante l'ultimo posto per Crotone sussistano elementi di discontinuità. Il tenore di vita ad esempio risulta accettabile e la provincia è tra le migliori in tema di criminalità dove si aggiudica il 31esimo posto. Poco più su al 102esimo posto c'è il Reggio Calabria, ancora più su alla posizione 98 spunta Vibo Valencia. Catanzaro è al posto 96, al numero 77 troviamo invece Cosenza che scala 14 posizioni rispetto ai dati dello scorso anno. L'indagine è particolarmente accurata e complessa e consente di fornire un quadro approfondito dei molteplici aspetti in cui la qualità della vita si articola nelle diverse province italiane. Sulla base di ciò c'è da dire che sul fronte sanitario le posizioni non sono troppo preoccupanti. Infatti c'è da sottolineare la buona e in alcuni casi ottima prestazione di Catanzaro e Vibo Valencia. Nella classifica generale Catanzaro infatti è quindicesima e guadagna posizioni. Vibo Valencia invece sulla base delle elaborazioni Istat relative al 2014 è al primo posto per numero di medici ospedalieri per 100 posti letto, mentre Catanzaro è nona.